Ciao ragazze, allora oggi come ogni mercoledì video review andremo a parlare della nuova collezione Wicom, la Essential Elements questi prodotti mi sono stati inviati e non ho appunto come tutta la collezione ma alcuni prodotti di questa nuova collezione volevo fare una review un po' particolare nel senso voglio farvi vedere di quelli che ho ricevuto i prodotti top e i prodotti flop cioè quelli che mi sono e non mi sono piaciuti scusate la fascia in testa però oggi così allora parto un po' così random ci sono degli ombretti molto particolari in questa collezione più che particolari come ombretti, particolari come packaging e sto parlando questi, degli waterproof e shadow questi due qui che hanno una confezione molto molto particolare che ve la faccio vedere più da vicino in dettaglio e tutto il colore praticamente si trova in questo tappino qua ecco qui e qui dentro c'è il prodotto voi praticamente andando a inserire la spugnetina all'interno in questo modo perché la spugnetina praticamente entra in dentro ed esce c'è una piccola molla in questo modo andando all'interno potete ruoteare e fare questo movimento per poter prendere appunto tutto il prodotto nel tappo vado ad applicare il prodotto allora devo dire che secondo me il prodotto non è male solo che non mi trovo ad applicarlo con questa spugnetina è un prodotto tra il cremoso e la polvere diciamo una via di mezzo però sinceramente credo che ci sia troppo spreco di materiale cioè nel senso che tutto questo prodotto tutta questa confezione qui per poi avere solo questo prodottino lo trovo un po' uno spreco diciamo come ombretto mi piace perché lo trovo una colorazione che sta molto bene con il mio incarnato illumina abbastanza, uniforma è facile da sfumare si sfuma in maniera molto molto semplice questo è l'effetto che dà sugli occhi molto naturale si sfuma benissimo lo 04 Lilla Metallico non mi piace la pigmentazione di questo ombretto perché secondo me non ha cioè è leggerissimo ha questi glitterini all'interno quasi non si vede quindi non so se riuscite a vederlo c'è proprio leggero leggero quindi questa colorazione non mi piace quindi fra i due sicuramente preferisco questo beige come vi dicevo prima e questo viola appunto è quasi inesistente quindi ve lo consiglio solo se non amate i colori molto forti ma vi piace dare un leggero colorito però personalmente fra i due questo è un promosso e questo è un gocciato e questo è il colore sublime e questo è il colore numero 04 Lilla Metallico passiamo ad un altro prodotto che è un matitone doppio e sto parlando del Double Impact questo matitone qui che ha da una parte la colorazione 04 Venge e dall'altra parte la colorazione ecru perlato personalmente questo è un prodotto appunto che dividerei in promosso e bocciato perché la parte più scura è assolutamente magnifica come vedrete successivamente si sfuma benissimo molto intensa ho realizzato appunto questo trucco qua che vedrete adesso è davvero molto molto facile da sfumare e potete realizzare appunto un make up in pochissimo tempo questa parte qui si è illuminante è illuminante, parlatina ma quasi non si vede diciamo è impercettibile ve la consiglio magari di applicare su tutta la palpebra e sfumata se giusto volete dare un tocco luminoso se solitamente magari quando siete di fretta o generalmente vi piace applicare solo il mascara quindi per illuminare la palpebra devo dire che potete utilizzarlo così questa parte scura invece l'ho trovata anche perfetta all'interno dell'occhio pur avendo dei piccoli piccoli glitter ma davvero piccoli all'interno devo dire che non mi ha dato fastidio assolutamente è un matitone che vi consiglio soprattutto per realizzare il make up o come base per il make up davvero magnifico vado ad applicare quella più chiara che è una sorta di scusate ma la voce sto perdendo è una sorta di beige illuminante la vado ad applicare nell'angolo interno del mio occhio in questo modo lo sfumo sempre un po' con le dita io non la noto tantissimo applicata quindi questa parte non è tanto che mi fa impazzire mi piace invece tantissimo questa parte qui più scura molto molto più pigmentata vedete un po' qui veramente molto pigmentata è un color marrone quasi nero però è davvero molto morbida la matita e vado ad applicarlo nella mia piega dell'occhio quindi lo applico qui alla fine in questo modo e nella piega non in maniera precisa perché adesso appunto andiamo a sfumare vediamo se si sfuma ma devo dire che come sfumabilità è abbastanza alta e diciamo che non si fissa subito quindi potete tranquillamente sfumarlo ora io non sarò precisa però diciamo che questo non è più un tutorial volevo giusto provare con voi insieme a voi questi prodotti questa matita si è sfumata davvero molto molto bene non si fissa subito quindi avete il tempo di avete il tempo scusate avete tranquillamente il tempo di sfumarla con calma vediamo l'applico anche nella rima interna dell'occhio scrive anche molto bene all'interno dell'occhio e non brucia assolutamente io non ho gli occhi sensibili quindi non ho questo tipo di problema poi con un pennellino penna vado a sfumarla nella rima inferiore e se volete realizzare secondo me un trucco molto veloce quindi applicare solo la matita in maniera veloce non è male vado a intensificare la mia rima cigliare superiore praticamente questo sta diventando un tutorial però volevo appunto farvi vedere i prodotti in azione cioè non farvi la classica review ma appunto recensirvi il prodotto proprio provandolo insieme diciamo che con una semplice matita siamo riusciti a tenere un effetto abbastanza carino a me non mi dispiace sai in quelle giornate che non abbiamo voglia di fare chissà che sugli occhi non è male che ne dite? velocissimo un trucco molto smart molto veloce e questo è l'effetto appunto applicato con l'applicazione del mascara quindi abbiamo realizzato questo trucco semplicemente con questi due prodotti qua quindi facciamo in questo modo promosso e ne ecco all'interno poi della confezione sì all'interno della collezione poi abbiamo una palette di ombretti tutte le palette sia ombretti che blush che prodotti viso sono tutti in questa confezione qui appunto molto essenziale molto minimal la plastica è abbastanza spessa devo dire che sotto questo punto di vista mi ha colpito e questa palette io purtroppo la devo assolutamente bocciare vedendola così sembra una palette bellissima perché comunque ha questi colori se riuscite a vedere molto luminosi però adesso ve la swatch sulla mano e ditemi voi se se può essere promossa una palette del genere e a me mi dispiace perché cioè è un po' imbarazzante in realtà perché gli ombretti WICON solitamente mi piacciono molto però ora ditemi voi se questi swatch è imbarazzante ragazzi cioè veramente imbarazzante i colori sono poco pigmentati tranne per il dorato questo doratino qui questo verde questo diciamo illuminante però davvero io non me la sento assolutamente di consigliarvi questa palette in particolare le altre non lo sono ma questa è la numero 03 assolutamente bocciata mi dispiace però non scrive assolutamente quindi comprare una palette per un solo dorato che tra l'altro non è nemmeno eccezionale direi proprio di no questa palette sempre nello stesso packaging della palette occhi dove all'interno abbiamo questo blush e questi due illuminanti questa devo dire mi è piaciuta davvero tantissimo il blush è molto pigmentato gli illuminanti sono davvero molto molto carini vado ad applicare il blush solamente in questo modo senza illuminante come potete vedere è molto molto pigmentato quindi bisogna sfumarlo davvero molto molto bene un piccolo consiglio se vi capita come nel mio caso di aver applicato tanto prodotto vi consiglio di prendere una spugnetta che avete già utilizzato per il fondotinta quindi dove al di sopra c'è un po' di fondotinta e di andarla a picchiettare in questo modo da appunto smorzare un po' il colore del vostro blush questo blush è abbastanza pigmentato quindi dosatelo in maniera molto molto leggera perché davvero molto pigmentato ok e questo è il blush vado ora di sopra ad applicare un mix dei due illuminanti lo applico qua bello mi piace anche questo a me piace applicare l'illuminante qui sui zigomi ma soprattutto in questa parte centrale del viso mi piace particolarmente qui in questa zona applico un po' qui e un po' sul naso ok questo appunto era l'illuminante con il blush come avete visto nell'applicazione il blush è molto molto pigmentato e anche gli illuminanti devo dire che sono carini perché avendoli in questa posizione potete o applicare il blush da solo quindi avere un effetto matto oppure miscelare tutti i colori insieme e avere questo effetto molto più luminoso quindi assolutamente questo blush io lo promuovo a pieni voti è numero 01 un prodotto invece che mi piace tantissimo è questa tinta labbra qui in particolare la colorazione 06 mattone e questa tinta labbra vi faccio vedere anche il packaging del cartone che è davvero bellissimo questo si chiama Lip Mirror e guardate qui che carino e praticamente ogni prodotto ha questa grafica qui ma di colori diversi vi faccio vedere questa qui è blu ha sempre questa grafica quindi ogni prodotto ha la confezione con la stessa grafica ma con colore diverso allora questa tinta qui nella parte anteriore avete questa zona in trasparenza che vi fa vedere il colore della tinta e in più il livello appunto del prodotto la quantità del prodotto mi ricorda molto come packaging molto semplificato quelle di Yves Saint Laurent vi faccio vedere un po' come l'effetto finale che poi è questa che ho sulle labbra iniziamo come vedete è molto molto liquida non è una tinta corposa non è una tinta corposa quindi vi dà un effetto molto naturale non nel senso nel colore ma proprio nella consistenza sulle labbra questa sua consistenza secondo me non vi permette di essere molto precise nei contorni infatti se potete vedere vi dà sempre quell'effetto un po' non definito quindi se volete delle labbra definite questa tinta non è quel genere di tinta e ha sempre questo aspetto un po' lucidino quindi ha sempre questa anche dopo un po' che è asciugato il prodotto vi dà sempre questo aspetto un po' lucidino quindi tamponandola si opacizza però comunque vi lascio sempre l'impronta cioè se io vado a dare un bacio come potete vedere lascia l'impronta perché è morbida non è cremosa ma ha una texture morbida personalmente non me le asseccate e la durata è abbastanza alta quasi 5-6 ore mi è durata tranquillamente sono andata anche a mangiare e devo dire che non è come applicare un rossetto ad esempio a mac o una tinta molto più corposa che si va appunto a seccare ma essendo leggera si fissa molto bene e dura parecchio quindi questa qui non mi è dispiaciuta assolutamente mi è piaciuta molto quindi un prodotto che vi strastra consiglio è assolutamente un sì all'interno di questa collezione abbiamo anche queste gocce concentrate autobronzanti che si chiamano Ipanema drops concentrato autobronzante queste qui vi faccio vedere come la confezione sono queste che non ho provato perché a meno che non voglio andare in giro non lo so super abbronzata adesso che non è il caso diciamo a me non piace in realtà l'abbronzatura sì mi piace ma non sono una tipa che proprio impazzisce per l'abbronzatura tanti anni fa sì ma adesso è una cosa che proprio non ci do più di tanto peso quindi non non ne ho provate però la cosa che mi ha colpito è che rispetto a tutti gli autobronzanti ha un odore davvero molto molto buono e un olio come potete un olio quasi gel non lo so difficile spero che riusciate a vederlo e appunto l'odore è molto buono perché solitamente le creme abbronzanti o autobronzanti hanno un odore un po' cattivo ultimo prodotto che ho ricevuto di questa collezione è questo smalto qui dalla colorazione pescata bellissima mi piace molto molto e vi faccio vedere lo swatch che è appunto questo qui questo no scusate questo qui ecco qua questo davvero molto molto bello questa è solo un'applicazione quindi una sola passata di prodotto e devo dire che con l'abbronzatura secondo me è un colore bellissimo e è molto appunto come vi dicevo coprente già dalla prima applicazione e lo trovo un colore davvero delizioso e super carino e niente ragazzi questa era diciamo la mia le mie piccole opinioni su questi prodotti ho voluto fare una cosa un po' più diversa quindi farveli vedere in azione sta venendo lo sternuto è passato sì spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo venerdì con un nuovo video di EY ciao